Lascia il terreno di gioco Hernan Crespo Ovviamente nessun giocatore è mai contento di lasciare il terreno di gioco Soprattutto quando ha avuto buone occasioni da gol Fa le danni di figo, fa proseguire perché tiene palla Ibra Rizzoli Che salta Maldini, attenzione, guadagna al fondo Palla dentro, cruzza e gol, 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 e gol E gol, e il tre segna Julio Cruz, e il tre segna Julio Cruz Al minuto 9, al minuto 9, al minuto 9, ponciarello Un giovanotto delle giovanili nero azzurri pronto a rimettere il pallone in gioco Milan che non ha fatto tutti i suoi cambi, ha fatto entrare Cafu e Gilardino L'Inter ha già risolto il problema dei cambi Cruz vince un rimpallo, attenzione, entra in aria Ibra, il tiro, a gol, a gol, a gol Il genio, il genio E sono due, e sono due Il genio, e sono due Su Assist di Cruz metros Grazie a tutti